I carabinieri della stazione di Ispica hanno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora una donna di Ispica di 42 anni, per la truffa gravata e danni di un anziano. La storia del malcapitato ispicese di 76 anni era iniziata nel mese di febbraio scorso, allora quando la donna, approfittando dell'età avanzata del disagio psittico vissuto dall'uomo, lo aveva convinto di aver vinto un'ingente somma tramite un biglietto grattevinci e di necessitare di alcuni anticipi in denaro per incassare il premio. La donna sagace truffatrice ha indotto l'uomo a ritenere che per incassare la somma di 5 milioni di euro si dovessero versare diverse migliaia di euro ed aveva promesso all'anziano di restituire 50.000 euro come ringraziamento per la sua collaborazione. L'uomo, attirato dalla possibile somma e dalla capacità criminale della malfattrice, le ha versato in diverse occasioni somme per oltre 6.000 euro mai restituite. Le figlie dell'uomo si erano accorto della mancanza di denaro dai conti dell'uomo e avevano sport una guerra presso la stazione dei carabinieri che aveva avviato le indagini. L'attività investigativa coordinata dalla procura di Ragusa si era estrinsecata in una copiosa mole di sommarie informazioni raccolte nonché in un periodo di intercettazioni telefoniche che hanno permesso di raccogliere approfondita e variegata documentazione probatoria a carico della donna. Al termine delle indagini, le emergenze rassegnate al giudice per le indagini preliminari hanno permesso l'emissione di una misura cautelare che il giudice ha dosato anche rispetto al fatto che la donna sia censurata. Nella misura cautelare il giudice ha sottolineato la gravissima propensione a delinquere della stessa e la grave circostanza di aver truffato un anziano anche in stato di disagio mentale.